molto bene andiamo a vedere questo breve tutorial su come correggere i compiti con cami quindi compiti consegnati come pdf o come immagini sono nei panni del maestro di prova e quindi un docente che ha creato un compito e che deve correggere un compito consegnato riconsegnato dall'alunno carlo carli quindi andiamo ad aprire il compito di carlo carli in questo compito già si vede che ci sono numerosi errori quindi è necessario andare a scrivere sul pdf allora clicchiamo su apricon e scegliamo annotate with cami solo la prima volta sarà necessario selezionare school teacher perché siamo insegnanti e stiamo usando un learning management system ovvero una piattaforma di apprendimento sì in particolare ovviamente la nostra google classroom school name se vogliamo mettere possiamo metterlo poi clicchiamo su finish ecco ci dice che possiamo godere di 90 giorni delle funzioni complete di cami poiché ovviamente non intenderemo al termine dei 90 giorni effettuare alcun pagamento mostrerò in questo tutorial le operazioni valide anche quando scaduti 90 giorni decaderemo alla versione free quindi le operazioni che adesso andremo a vedere sono quelle valide sempre sia in questi primi 90 giorni che godiamo della versione completa sia successivamente quando avremo solo la versione free bene questo è ovviamente una breve esposizione sulle potenzialità di cami ma non ci interessa quindi per ora chiudiamo e ripetiamo l'operazione per ritrovare il foglio dell'alunno da correggere all'interno di cami dunque andiamo un attimo a ingrandire per vedere meglio molto bene quindi l'alunno qui tra i latifogli avrebbe dovuto mettere quercia olmo e fico invece ha messo abete bianco quindi possiamo selezionare la penna rossa l'olmo sarebbe dovuto andare nella categoria lassù viceversa l'abete dovrebbe andare nella categoria degli aghi fogli nel secondo esercizio ci sono degli errori di ortografia allora possiamo sottolinearli per esempio aggiungere il testo molto bene adesso come procediamo procediamo cliccando sul tasto download selezioniamo google drive stiamo ben attenti se compare il nome dell'alunno tanto meglio altrimenti lo scriviamo noi perché sarà più facile poi riconoscere di chi è il compito è molto importante selezioniamo la cartella di drive dove vogliamo salvarlo questo perché perché se dovremo poi rendicontare archiviare ritrovare tutti i compiti corretti allora è bene mantenere un elevato grado di ordine nel nostro drive allora selezioniamo la cartella suggerisco di cliccare su classroom sul corso e lasciare selezionata la cartella dell'esercizio in questione in questa maniera seleziono e questo nuovo file con le mie correzioni sarà salvato proprio lì quindi avvio l'esportazione ecco posso aprire google drive ed eccolo qui a questo punto devo fare in modo di mostrare allo studente le mie correzioni quindi tasto destro condividi copio il link una volta effettuata questa operazione questa finestra non mi interessa più quindi chiudo chiudo anche questa di kami e ritorno al compito e li scrivo per esempio incollo il link e lo pubblico infine restituisco posso chiudere il la schermata di correzione se non devo correggere altri compiti oppure passare a un altro alunno in questa maniera all'alunno carlo carli arriverà sia su classroom sia via mail la notifica che il suo compito è stato restituito e che c'è anche un nostro commento e con il link che potrà agevolmente cliccare per vedere le nostre correzioni fine del tutorial ciao 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 Grazie a tutti.